Mollo tutto e prendo un casale a Orvieto. Quella di Piero Foglia è una storia di lucida follia. Esperto di marketing e comunicazione, gli eventi della vita lo costringono a riavvolgere il nastro. Più o meno casualmente mi sono ritrovato con la necessità di dover cambiare strada. Intorno al 2020, come tutti, ho vissuto la crisi del Covid che mi ha imposto una riflessione profonda su quello che era il senso dell'attività professionale che stavo conducendo e soprattutto sul senso della vita. Il Covid impone a Piero una nuova riflessione. Un giorno accompagna uno dei suoi figli a ripulire un casale nella zona di Orvieto. Improvvisamente riscopre l'Umbria, dove è cresciuto, e l'essenza della vita di campagna. Un mondo totalmente diverso. Un mondo diciamo rurale, contadino. Un mondo in cui la colazione era rappresentata da latte appena munto, piuttosto che da orzo, piuttosto che da pane bagnato con zucchero. Ecco, quel legame non l'ho mai perso, e anzi sono molto legato, diciamo, alle mie origini. È un legame che si è poi trasformato in un amore vero e proprio per questa nostra terra, e da lì è nata l'idea di realizzare un progetto che andasse a ripescare quelle tradizioni, quelle usanze, quei sapori antichi che io mi porto fin dall'adolescenza con me.